Cimici alla piastra. La presenza di questi insetti che si annidano nei materassi dei letti e negli arredi di casa era stata sollevata già tempo fa sui social con varie segnalazioni, peraltro mai formalizzate in comunicazioni alle autorità competenti. Non un'epidemia ma un fenomeno circoscritto ad alcune abitazioni che ora è stato affrontato dal comune. Nelle vesti di primo responsabile della sanità pubblica il sindaco ha deciso di intervenire ma rifiuta di parlare di un problema diffuso nel quartiere sud ovest. Avendo avuto comunicazione abbiamo dato mandato ai nostri vigili assieme alla TS di fare una verifica sulle condizioni di alcuni appartamenti collocati nella zona di via Don Guanella. Fatte le verifiche si è riscontrato che più di un appartamento vedeva la presenza dei cimici e quindi previa telefonata prima con l'Aller che è proprietaria dell'immobile, si è mandata un'ordinanza ma questo è lo strumento, non è niente di particolare ma formalmente bisogna attuare questi tipi di strumenti per invitare l'Aller a fare un'opera di sanificazione degli appartamenti interessati da questo tema. C'era o c'è qualche pericolo, qualche preoccupazione per la salute? Ma direi proprio di no, non ci sono particolari problemi però siccome sono fastidiose queste presenze è utile che vengano ovviamente tolte dagli ambiti di abitativi di quegli appartamenti. Si è parlato del possibile nesso fra la presenza di cittadini stranieri che su indumenti, bagagli provenendo dai loro paesi d'origine potessero aver portato con se queste cimici. Voglio dire per carità, mi ricordo che quando ero piccolo avevamo tutti i pidocchi a scuola e non mi pare che allora in quel periodo ci fossero tanti ragazzi di colore nelle nostre scuole. Sono temi legati a situazioni ovviamente di igiene che è utile che tutti noi insieme contribuiamo a mettere nelle migliori condizioni possibili. Quindi evitiamo, non mi piace che qualcuno poi su strumenti a cui io non partecipo parta con le solite segnalazioni molto spesso fuori luogo. Io ritengo che il percorso chiaro di un'amministrazione è ricevuta a comunicazione formale a seguito di questo e si fanno le verifiche del caso e si prendono gli strumenti che la legge consente e suggerisce.